E gli anni passano e un po' ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Per questa faccia gli sponsor pagano, sono più spesso su novella che è successo Sorrido quando guardo la lista dei movimenti e se proprio devo piangere vado alle iene Io fatturo e me ne fotto della sorte, per la cifra giusta faccio pure lo spot delle giravolte Cotolette croccanti con emmental e un ripieno filante di provola Guarda è facile, bastan dieci minuti in forno a fuoco lento Non serve uno chef, non si vive soltanto di musica Non si campa soltanto di Instagram Sai per permettermi di avere 6 zeri sul conto corrente Mi faccio uno spot Tutto è bonifico, fede, tutto è un bonifico Tutto è un bonifico, fede, tutto è un bonifico